Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Bip Bats! Bip Bats! Siamo le Bip Bats! Se siamo insieme, noi non ci fermiamo! Luzza, paura, inizia l'avventura! I love Bip Bats! Un sogno glitterato, parte 2! Questo sì che si chiama riposino, Fabia! Sì, ho fatto un sogno incredibile! Abbiamo fatto questa acconciatura fantastica chiamata Glitter Twist alle nostre Bip Bats e le nostre divise erano bellissime! E i fan delle Bip Bats riuscivano a sentire le voci di tutte le Bip Bats! Non ci credo! Questi bigodini sono orrendi! Avevo detto che li volevo rosa scuro! Mi dispiace, oggi non possiamo aprire il salone, ma risolverò immediatamente! Devo tornare a studiare? Le mesh californiane sono... Chi può essere? Oh, che bello! Siete venuti a provare il nuovo look Glitter Twist? Noi vogliamo soltanto vedere Taylor! Da quando è andata in Australia? Ci manca davvero tanto! Dobbiamo fare qualcosa o allagheranno il salone! Le sue mosse come andava sullo skate! La sua energia! A volte eravamo sfinite, ma ci siamo sempre divertite con lei! Ascoltami, dobbiamo fare qualcosa per rallegrare le Bip Bats! E se facissimo loro un look Glitter Twist, sono sicura che aggiungendo un po' di glitter brillante saranno tutte super contente! Su, diamo la buona notizia! Amiche, stavamo pensando che potremmo rallegrarvi un po' dando a tutte voi un nuovissimo look incredibile! Per primo, faremo il look Glitter Twist a Lady Gigi! Gli accessori che ci serviranno per questo fantastico look sono... Un pettine Bip Bats, degli elastici colorati, una clip arcobaleno, due forcine, tre perline e il nostro super ingrediente speciale! Il glitter! E ovviamente, il suo collare! La prima cosa da fare è scoprire il suo bellissimo tattoo! Quindi, dopo che lo avremo scoperto, la successiva cosa da fare è pettinarle i capelli, ma con molta delicatezza! Ma è fantastico! Guarda quei capelli glitterati, brillano come non mai! Già, sono favolosi! Ma andiamo avanti con il look! Quello che dovremo fare adesso è separare una ciocca dei capelli davanti, così poi la potremo usare! Continuiamo facendo due trecce su ogni lato della testa! E adesso prendiamo la ciocca sul davanti, creando così una mezza coda che bloccheremo poi con un elastico! E ora è arrivato il momento della parte più cool di tutte! Facciamo un fiocco sulla mezza coda! Dividiamo la ciocca in due parti, lasciando così un bel po' di spazio al centro! A questo punto, prendiamo la ciocca anteriore che avevamo separato all'inizio e la facciamo passare esattamente nel mezzo, così, creando un bel fiocchetto! Per fare in modo che duri a lungo, lo blocchiamo con due forcine, così il nostro fiocchetto rimarrà bello e stabile! Bene, e ora leghiamo assieme le due trecce con le nostre perline colorate! In questo caso, useremo quella più grande! Poi usiamo le altre perline più piccole per decorare l'acconciatura! Ora prendiamo questa molletta con la forma di arcobaleno e la mettiamo al centro del fiocchetto! Questo look è così bello e allegro che quando le V-Pets lo vedranno, se ne innamoreranno! Ma lo ameranno ancora di più con un po' di glitter brillante! Hai ragione! Ci manca il trucco finale, il glitter! Wow! Un'acconciatura piena di stile! Ora dobbiamo solamente mettere il collare, così sarà pronta per farsi vedere dai suoi follower e dalle V-Pets! E ora vi vorrei presentare la più carina e la più adorabile cagnolina del mondo! Lady Gigi e il suo look glitter twist! È fantastica! Vorrei essere cool come lei! Anche io! È una vera opera d'arte! Diteci che lo farete anche a noi! Dovete semplicemente dire la parola magica! Glitter! Oh, i vostri look sono fantastici! Li adoriamo! Grazie ragazzi! Siete i migliori parrucchieri di tutto il mondo! Sono sicura che questo look sarebbe fantastico su Taylor! Magari fantastico come questo? Wow! C'è anche Taylor! E ha un'acconciatura fantastica! Ci manchi tanto, Taylor! Anche voi mi mancate! Che dolci, zio! No, non puoi così tanto! Non è vero, ma se stai piangendo! È solo che loro sono così amiche ed è un sentimento così emozionante! Dai, facciamo una foto tutti quanti assieme! Bene, V-Pets fan! Con il look di oggi abbiamo finito! Ma se volete vedere più video, ricordate di iscrivervi al nostro canale! E mettete like ai nostri video! Alla prossima, V-Pets fan! Che sarà molto presto! E non dimenticate di brillare col stile! Lut da paura inizia l'avventura! I love V-Pets!